Siamo qua come rappresentanza di Pesero 30 e di FIAB Fano Forbici, insieme a tante altre associazioni che in tutta Italia stanno manifestando, sono circa 40 le manifestazioni in tutta Italia, contro la legge che è in approvazione di modifica del codice della strada. È una legge che sembra andare nella direzione completamente sbagliata rispetto alla sicurezza stradale che noi abbiamo in mente. Ci sono molte misure di bandiera, repressive, con sanzioni, ma che poi diventano anche difficilmente applicabili. Invece quello che noi chiediamo è che la prima causa degli incidenti stradali e delle morti in strada, ovvero la velocità, su quella si debba intervenire, soprattutto in ambito urbano. Noi siamo qui stamattina per manifestare contro questo disegno di legge, come ha in altre città d'Italia, soprattutto per rivendicare l'utilizzo della bicicletta e andare a piedi nelle nostre strade, che è quella la cosa più importante, ma non solo per noi, soprattutto per i nostri familiari, i nostri bambini, che molto spesso sono in difficoltà a percorrere le nostre strade perché sempre più oppresse dalle auto.